mi perdoni padre perché ho peccato da quant'è che non ti confessi 60 anni hanno più hanno meno ora dimmi ogni peccato grave che ti separa da cristo oh no staremo qui per sempre non possiamo occuparci solo di oggi mi sei quasi mancato anche tu ti fa uno strano effetto lui è il mio migliore amico è tornato da un lungo viaggio finora ho rubato una macchina da sballo un mucchio di pasticche forte niente trovi al banco sono medicina o l'ipertensione ma ho fatto anche delle cose buone ho salvato un mio amico dammi le chiavi non c'è la chiave dammi le chiavi no è un pulsante si preme il pulsante è automatica solo computer ma siamo nel futuro quindi posso dire un ave maria e chiuderla così non credo che ti basterà un ave maria per uscirne ha ragione hai fatto ci sto lavorando dicono che moriamo due volte una volta quando il respiro lascia il corpo e l'altra quando l'ultima persona pronuncia il nostro nome sei il mio nuovo eroe sono stato via per molto tempo voglio solo ballare con te sei il mio unico amico e tu il mio è come ai vecchi tempi no è meglio non posso fare quello che avevo detto pietà chiedo solo questo pietà finisce il compito io mi sono preso la colpa per tutti sono un uomo di parole